Marni! Vi invitiamo a rimanere con noi perché subito dopo ci sarà in attesa del verdetto dei giudici dei verdetti dei giudici perché i premi sono diversi l'esibizione, avremo l'esibizione delle zanzare, i piccoli bandierai degli uffizi Ehi! Grazie. 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 La grande squadra di Narni. Grazie. 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 Ed ecco il corridoio da parte delle Chiarine e dei Tamburini. Grazie. E i musici alla grande squadra di Narni. Ricordiamo che i costumi sono rigorosamente ricostruiti. in base a quelli d'epoca rinascimentale medievale. il cinquecento del seicento. il cinquecento di Narni. il cinquecento di Narni. il cinquecento di Narni.